Siamo con Rossella Falcone, assessore al turismo del comune di Vieste, parte l'estate Viestana 2019, un cartellone ricco di eventi, che cosa ci dobbiamo aspettare? Un po' di tutto, in base ai vostri gusti, abbiamo cercato di costruire un'estate abbastanza variegata, abbiamo destinato i nostri eventi al nostro target familiare con l'inizio in questo ponte, con il Festival della Magia, una serie di eventi sportivi, infatti abbiamo l'europeo di freestyle, eventi musicali importanti come per esempio l'anteprima del tour di battiti live a fine giugno, oppure il Festival Cristal del Pezzo Muno, invece legato alla musica concertistica, che vedrà la presenza anche di Catericciarelli, Festa Ambiente Sud, una serie di concerti live che vedranno la presenza sul nostro territorio di artisti del calibro di Bregovic e ancora un altro evento fuori di fine stagione, quale Viest in Love, che è come è stato strutturato e pensato per un periodo di bassa stagione, cioè prima della chiusura dell'estate, fare in modo che Viest venga nuovamente scelta anche al di là di quello che è il mare, per cui degli eventi costruiti proprio in base a quelle che la gente che sceglie veste per le proprie vacanze estive.